Una perturbazione proveniente da nord-ovest transita sull'Italia centro-settentrionale, determinando un temporaneo peggioramento. Una profonda saccatura presente sul centro-nord Europa continuerà a pilotare anche sull'Italia umide correnti occidentali. In Toscana, mercoledì 19 ottobre, nuvolosità variabile a tratti più consistenti associata a locali piogge e brevi rovesci più probabili sulle zone di nord-ovest e su quelle più occidentali della regione, possibili banchi di nebbia fino alle prime ore del mattino, venti deboli variabili fino a moderati sud-occidentali sulla costa in serata, mari poco mossi, tendenti a mossi dalla sera e in particolare sul litorale settentrionale, temperature minime in calo e massime in aumento al centro-sud, pressoché stazionare altrove. Sul territorio provinciale cielo generalmente nuvoloso, con deboli piogge alternate a schiarite, allucche sulla piana, temperatura minima 12, massima 20 gradi, in Versilie sul litorale minima 14, massima 20, in Garfagnane zone montane minima 8, massima 18 gradi, giovedì ancora condizioni di tempo instabile con piogge diffuse.